Quali materie studiamo a scuola? La storia della letteratura, la storia, le scienze naturali, magari l'economia e il diritto e altre ancora. Prima dell'illuminismo avremmo studiato cose completamente diverse, non oggetti, temi diversi, ma proprio materie diverse. Avremmo studiato le arti del trivio e del quadrivio, il trivio, quelle umanistiche, la retorica, la grammatica, la dialettica, il quadrivio, quelle diciamo scientifiche, l'aritmetica, la geometria, la musica, l'astronomia. Tutto il sistema delle materie scolastiche è in qualche modo figlio, così come noi lo conosciamo e lo studiamo, della grande rivoluzione culturale che l'illuminismo porta sulla scena europea alla metà del Settecento. Guardiamo i libri di studio, noi abbiamo il manuale d'italiano, il manuale di storia, il manuale di matematica, il manuale di scienze o di biologia o di chimica. Anche questi libri, così come sono confezionati sotto i nostri occhi, sono i figli, i figli perfezionati, però i figli della rivoluzione illuminista. Prima dell'illuminismo la trasmissione del sapere avveniva in un modo molto meno sistematico, molto meno disciplinato, molto meno strutturato. Era spesso una trasmissione riservata a una piccola, piccolissima elite. Pochissime persone avevano accesso al sapere e non esistevano quindi strumenti complessivi, organici di trasmissione del sapere. I manuali scolastici che abbiamo invece sotto gli occhi sono i figli di un'idea, diciamolo, di un'idea democratica della cultura, cioè dell'idea che si possa trasmettere l'insieme del sapere in un certo campo disciplinare anche a persone che ne sono fino a quel momento sostanzialmente digiune e che tutto questo sapere possa essere a livelli più elementari o più complessi raccolto, radunato in un unico volume sistematicamente organizzato. Ma guardiamoci intorno allargando lo sguardo dal campo diretto della nostra esperienza scolastica e di studio a quello della società che ci circonda, i giornali che si vendono a pochi soldi, i libri che escono continuamente anche su temi di attualità, le polemiche che i libri e giornali spesso rappresentano tra punti di vista diversi, non solo a livello politico ma a livello culturale, in tutti i campi. Facciamo l'esempio di una polemica sull'onestà o la disonestà di un uomo politico, con quotidiani che prendono posizione in una certa direzione, altri che la prendono opposta e inchieste e ricerche e articoli ed editoriali e libri che escono su questo, con interviste a persone importanti o con contributi anche di persone completamente ignote ma che diventano famose, entrano nel circuito del dibattito perché hanno sostenuto una tesi interessante, originale, nuova o semplicemente stupida e provocatoria. Tutto questo esiste perché esiste un'opinione pubblica, perché esiste l'abitudine a confrontarsi sulle idee al cospetto di un grande pubblico che non solo partecipa leggendo ma partecipa poi prendendo posizione. L'illuminismo è il momento in cui nasce l'opinione pubblica moderna, nasce il confronto delle libere idee, più o meno libere certo, davanti agli occhi dei lettori.